Sottotitoli 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 arl drops Ok balancing Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. 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 non è un po' che ha detto che è la nascita tu non mi sparo e non mi sparo? non mi sparo e non mi sparo? Buongiorno a tutti. 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 Buongiorno a tutti.